Parte oggi e si concluderà il 30 settembre la campagna estiva per il contrasto agli incendi boschivi, dopo che nei giorni scorsi la Presidenza del Consiglio ha inviato a tutte le regioni e le province autonome le raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi. Le indicazioni definite sulla base di quanto predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile delineano le azioni necessarie a ridurre il rischio di rughi e affronteggiare le situazioni di emergenza in termini di sensibilizzazione, prevenzione e monitoraggio, di razionalizzazione dell'impiego delle risorse e di pianificazione d'emergenza. Nonostante le ultime due stagioni estive siano state caratterizzate da condizioni meteorologiche poco favorevoli all'innesco e alla propagazione degli incendi, sottolinea infatti il Dipartimento, non sono mancate situazioni più critiche che hanno messo in evidenza la necessità di un raccordo continuo fra tutte le risorse regionali e statali disponibili sul territorio nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Proprio per questo scopo anche quest'anno la flotta aerea dello Stato opererà sulla base delle richieste inoltrate dalle regioni al Centro Operativo Aereo Unificato a supporto delle squadre e dei velivoli antincendio locali. Il Dipartimento ricorda infine che il primo responsabile degli incendi è l'uomo e dunque la prevenzione si fa prima di tutto attraverso campagne di sensibilizzazione e di educazione all'ambiente, oltre che con attività di prevenzione e soprattutto di costante monitoraggio. Un primo intervento tempestivo sui focolai da parte delle squadre a terra consente infatti di operare in modo più efficace e di ridurre il numero di casi di particolare gravità che richiedono il concorso dei mezzi aerei.